Ed eccoci qui per una buonotte un po' magica e qui con me ho un polar, un polar nero che rappresenta un po' le nostre paure. Penso che nella vita tutti abbiamo paura, soprattutto in questo periodo. Ma cosa ce ne facciamo delle nostre paure? Io faccio in questo modo. Prendo la mia paura e l'affido tutta nelle mani di Dio, sì, l'affido a Lui. E piano piano questa paura si trasforma in qualcos'altro, sì, pian piano questa paura, affidandola tutta nelle sue mani, ma proprio tutta, si trasforma in speranza. E io in questo periodo non mi sento di dirvi che sono sicuro che andrà tutto bene, ma una cosa sento di dirvela, che è quella di non perdere mai la speranza, non perdiamo la speranza, ma proviamo ad accentrarla questa speranza e condividerla con gli altri. Buonanotte.